Noi avevamo immaginato lo scenario in cui adesso sempre più esercizi si dotano di strumenti di termometri superficiali per misurare le temperature. E quindi avevamo immaginato che un addetto all'interno dell'azienda o dell'ufficio dovesse ogni mattina o in varie fasi del giorno misurare le temperature, registrarle e successivamente dare comunicazione o alle aziende sanitarie o all'ispettorato del lavoro per la sicurezza degli ambienti di lavoro. Noi abbiamo pensato appunto diamogli uno strumento che costi più o meno come gli stessi termometri ma che svolga tutto questo, la registrazione delle rilevazioni in maniera automatica, quindi riducendo l'impegno richiesto alle realtà lavorative e commerciali. L'avete fornita attraverso un working paper distribuito con licenza gratuita per poter essere riutilizzato da chiunque. Anche questa, perché questo tipo di scelta? Perché l'iniziativa è quella di fornire uno strumento facilmente replicabile i cui pezzi, diciamo quindi i sensori, la piccola piattaforma su cui si attaccano questi sensori sono a basso costo e si possono ritrovare sul mercato di largo consumo. E a questo uniamo anche tutto il discorso dell'architettura, quindi la parte software di gestione dati, perché è importante rilevare queste misurazioni e noi in quanto data manager abbiamo bisogno che ci siano dati puliti, riscontrati e soprattutto automatizzati. Ma non tanto perché noi ne vogliamo fare un uso, ma perché serve anche per trasmetterlo alle aziende sanitarie, anzi principalmente alle aziende sanitarie e agli enti di amministrazione che fanno le politiche di contenimento dell'epidemia, per avere appunto a basso costo degli strumenti di rilevazione che non vadano ad impattare nelle attività di aziende che sono già state sufficientemente provate. Ecco.